I Magnifici 5 arrivano a Firenze. Stiamo parlando dei 5 finalisti del Premio Campiello, il prestigioso concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello e da Confindustria Veneto. Ecco i 5 finalisti, Giulio Cavalli con Carnaio, Paolo Colagrande con La vita dispari, Laura Pariani con Il gioco di Santa Oca, Francesco Pecoraro con Lo stradone, Andrea Tarabbia con Madrigale senza suono. Senza cultura non saremmo nulla, Firenze credo che lo dimostri chiaramente insomma. Il compito degli imprenditori è credo anche quello di valorizzare tutto questo e Confindustria Veneto lo fate a 57 anni anche attraverso il Premio Campiello di cui noi siamo particolarmente orgogliosi. È una specie di blasone, un fiore all'occhiello di Confindustria Veneto che noi continuiamo a coltivare con grande passione.